Addio, monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo, cimi inuguali note a chi è cresciuto tra voi e imprezzo nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio come i branchi di pecore pacienti. Addio, quanto è tristo il passo di chi è cresciuto tra voi e se ne allontana, alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna. Si disabelliscono in quel momento i sogni della ricchezza, egli si maraviglia di essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensassi che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli parò gravosa e morta, sinoltra messo e disattento nelle città tumultuose. Le case, aggiunte a case, le strade che sboccano nelle stade, pare che gli levino il respiro e davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco a sui monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, che aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne sbalzato lontano da una forza perversa. Chi staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia che monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa Natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso e preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venire comandato e chiamarsi santo. Addio, chi dava a voi tanta giocondità e per tutto. E non turva mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, non di tale punto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell'Adda.